Il 18 maggio ritorneranno le celebrazioni liturgiche con la partecipazione del popolo, ma fino a lunedì le messe con la presenza dei fedeli sono ancora sospese. Pertanto il 16 maggio, giorno della festa di Sant'Alberto, patrono di Pietra Monte Corvino, il parroco Don Gaetano Schiraldi presiderà l'Eucaristia presso la Chiesa Madre senza fedeli. La messa andrà in onda su Telecattolica sabato mattina alle ore 11 e si potrà rivedere sul canale YouTube di Telecattolica. Dunque sarà possibile seguire l'evento unendosi spiritualmente alla preghiera. Dal 7 maggio Telecattolica ha trasmesso tutti i giorni la novena Sant'Alberto, vescovo di Monte Corvino vissuto nel XII secolo, particolarmente venerato dalla comunità di Pietra Monte Corvino di cui è patrono. La devozione, legata alla processione con i pali addobbati con sciagli e fazzoletti, risale all'Ottocento, quando il Santo Vescovo salvò il paese dalla siccità. Quest'anno il tradizionale pellegrinaggio a Monte Corvino è stato annullato a causa dell'emergenza coronavirus, ma non mancherà la celebrazione eucaristica nel giorno della festa di Sant'Alberto, che si potrà seguire grazie all'emittente Telecattolica.